signori buongiorno oggi san vincenzo festa grande quindi per ritornare alla normalità che cosa possiamo fare se non il piatto della giornata le polpette al sugo ed eccoci qua siamo quasi pronti per il pomodoro intanto le polpette si preparano signori ed ecco la materia grezza eccola qua ed eccola trasformata signori uno spicchio non veloce di più piccola menzione per la nostra tagliata con i peperoni eccola qua si ricomincia il couscous la risaglia brumi le salsicce farcite la fragosta la salsiccia con fior di latte di vi con gli straccetti costolette spietini polpettone prosciutto di maiale vi ripeto che c'è il ragù nel forno quindi praticamente tra poco saranno pronte le polpette a dopo per i saluti pronti per i saluti e sono solo vittorio sta facendo le polpette salvatore al momento è in sostituzione a pianura qua siamo sempre in emergenza buona giornata a tutti a domani eccola qua volezia allo stato puro a domani tempo i'm gonna roll